bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie il caso di oggi amici è un caso italiano di cui io personalmente non avevo mai sentito parlare e scommetto che come me anche tanti di voi su questo caso se volete potete trovare un episodio del podcast buio di pablo trincia se volete andarlo a sentire è l'episodio che si chiama l'assedio da cui ho preso anche alcune informazioni per questo video e in realtà devo dirvi che è stato proprio lui a parlarmi di questa storia per la prima volta e mi sono detta devo assolutamente farci un video perché è un caso davvero assurdo quindi preparatevi prima di cominciare però voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi letyshop letyshop è un servizio di cashback un servizio gratuito che ti permette di ricevere indietro una parte di soldi che spendi nel tuo shopping online attraverso o il sito o l'app e potete scegliere tra migliaia di negozi tra cui asos ma anche nike adidas sephora e non solo amici perché potete trovare anche per esempio siti di viaggi oppure di libri come feltrinelli o mondadori basta iscriversi appunto gratuitamente sul sito o sull'app selezionare il negozio da cui vuoi fare l'acquisto controllare che l'icona verde di letyshop sia attiva in alto e al checkout in seguito al pagamento ti verrà accreditata la percentuale di cashback di soldi direttamente sul tuo conto paypal o sul tuo conto bancario e non si ricevono dei buoni sconto o cose così si ricevono proprio dei soldi reali con cui fare quello che si vuole scaricando l'estensione per il vostro browser inoltre sarà ancora più facile capire quali siti sono convenzionati con letyshop in modo da non perdere mai l'occasione di ricevere un cashback facendo shopping trovate il link per provare letyshop come sempre sotto in descrizione e adesso cominciamo con la storia di oggi oggi amici parliamo di angelo spagnoli soprannominato dai media italiani come il cecchino di guidonia dunque ci troviamo a guidonia un comune di roma che conta circa 89 mila abitanti è il 3 novembre del 2007 e stefania una donna di 59 anni che lavora all'asl insieme a sua figlia margherita e al suo compagno pino che fa il tatuatore stanno uscendo tutti insieme per andare al cinema stefania e pino si erano conosciuti qualche anno prima e vivevano insieme insieme anche alla figlia di lei margherita che lei aveva avuto da una relazione precedente erano una coppia molto felice si amavano tanto e cercavano sempre di ritagliarsi dei momenti per per loro per passare del tempo di qualità insieme facevano spesso quello che chiamavano come fuga d'amore ovvero quando entrambi uscivano mezz'ora prima da lavoro solo per mangiare qualcosa insieme anche qualcosa di veloce come un panino non importava perché appunto l'importante era stare insieme nell'ultimo anno però i due avevano avuto qualche problema ma non non tra loro avevano avuto dei lutti in famiglia quindi delle difficoltà da affrontare difficoltà che fanno parte della vita e che avevano sempre affrontato insieme però questo per dirvi che nell'ultimo anno erano stati un po distratti diciamo e non avevano passato molto tempo di qualità insieme mancavano un po quelle fughe d'amore ed è proprio per questo motivo che quella sera del 3 novembre 2007 avevano deciso di dedicarsi una serata e appunto andare tutti insieme al cinema il film iniziava alle 8 di sera ma mentre uscivano di casa verso le 7 meno un quarto succede qualcosa che stefania descrive come strana racconta che mentre pino teneva la porta dell'ascensore aperta aspettando che lei uscisse di casa lei si era come bloccata dice di aver sentito come una voce dentro di sé che le diceva di non andare dice proprio che pino era lì che l'aspettava e la fissava dicendole ok ti muovi andiamo e lei lo aveva guardato e gli aveva chiesto non lo so ma tu hai davvero voglia di andare dai non andiamo rimaniamo a casa però avevano già rimandato tanto quella serata fuori insieme e quindi alla fine decidono di andare si mettono in macchina e guidando verso il cinema passano davanti all'asl di guidonia luogo in cui tra l'altro lavorava stefania ma mentre passano lì davanti notano che sul terrazzo della casa di fronte all'asl c'era del fuoco era una casetta bassa di due piani e quello sul terrazzo non era di sicuro il fuoco di un barbecue era proprio un incendio allora stefania decide di scendere dalla macchina e di andare a bussare alla porta di questa casa e nel farlo guarda dalla finestra per capire se all'interno ci fosse qualcuno le appaiono due sagome nere quindi all'interno dell'abitazione c'erano due persone al che lei urla scusate ma il fuoco che c'è sul terrazzo è normale ma di tutta risposta una di queste due sagome tira giù la tapparella le chiude la tapparella in faccia praticamente subito dopo dalla porta era uscito un uomo un uomo di mezza età che aveva urlato in faccia a stefania di andarsene via e poi era rientrato sbattendo la porta stefania non capisce ma prima di anche solo cercare di realizzare pino il suo compagno la tira indietro e nel farlo stefania alza lo sguardo verso il terrazzo in fiamme e vede quello che descrive come un tubo un tubo che sporgeva dal terrazzo e da cui proveniva altro fuoco solo dopo amici ha realizzato che in realtà si trattava di una persona che reggeva in mano un lancia fiamme che stava puntando dritto sulla sua faccia stefania e pino allora corrono dal lato opposto della strada e tirano fuori il cellulare per chiamare le autorità ma proprio in quel momento sentono un colpo fortissimo e subito dopo pino cade a terra qualcuno amici gli aveva appena sparato dritto in testa stefania allora in preda al panico tenta di trascinare pino in salvo anche perché era caduto proprio in mezzo alla strada quindi nella confusione della situazione stefania si preoccupava più che altro del fatto che un'auto avrebbe potuto investirlo non realizzando che c'era un uomo sul terrazzo infuocato che urlava imbracciando un fucile e sparando all'impazzata che aveva appena ucciso il suo compagno e che aveva appena sparato anche a lei stefania infatti racconta di aver improvvisamente provato un forte bruciore in tutto il corpo ma lì per lì un po per la paura un po immagino per l'adrenalina che le scorreva in corpo continuava a non capire non realizzava di essere stata colpita anche lei in quel momento passa di lì una macchina che vede tutta la scena a bordo di questa macchina c'era una famiglia bruno sua moglie tecla la loro figlia di cinque anni chiara e la loro nipotina di quattro anni rebecca bruno e tecla vedono stefania e pino sdraiati mezzo la strada che palesemente avevano bisogno di aiuto e cure mediche e pensano subito che siano stati investiti da una vettura quindi fermano l'auto e scendono ma appena bruno e tecla scendono dalla loro macchina iniziano a sentire una serie di botti che all'inizio pensano essere dei petardi ma poi uno di questi botti sfiora la faccia di bruno e iniziano anche a vedere dei lampi e capiscono che quelli erano spari qualcuno gli stava sparando tecla si è subito gettata distinto sulle due bambine dentro l'auto sua figlia e sua nipote facendogli proprio da scudo umano cioè da scudo col suo stesso corpo bruno era riuscito ad accovacciarsi e a nascondersi dietro la macchina ma in quei minuti che sicuramente saranno sembrate ore l'uomo sul tetto ha continuato a sparare contro la loro macchina quindi cioè amici provate a immaginare la scena tecla che copriva le bambine piccole con i proiettili che continuavano ad arrivare e distruggevano tutto distruggevano il tettuccio poi la portiera poi facevano esplodere i finestrini bruno riesce a salire in macchina riesce a mettere in moto l'auto e la famiglia scappa a tutta velocità riuscendo a mettersi in salvo nello stesso momento in cui bruno tecla e le bambine si mettevano in salvo si ferma un'altra macchina con alla guida una guardia giurata di nome luigi zippo anche luigi passava di lì appunto con la sua auto e anche lui vedendo stefania e pino sdraiati in mezzo alla strada si era fermato per soccorrerli luigi era riuscito a scendere dalla vettura e a raggiungere stefania e pino ma nel momento in cui si era chinato su di loro l'uomo sul tetto aveva aperto il fuoco colpendo luigi dritto in un occhio se vi ricordate insieme a stefania e pino c'era anche la figlia margherita che in tutto ciò era rimasta in macchina e a quel punto aveva iniziato a urlare a sua mamma di mettersi in salvo stefania stefania allora aveva dovuto lasciare pino e luigi zippo lì per terra in mezzo alla strada e insieme si erano nascoste sotto la macchina stefania a questo punto è cosciente di essere stata ferita l'uomo l'aveva colpita all'addome e stava perdendo moltissimo sangue inoltre le girava la testa ma doveva fare di tutto per evitare le pallottole perché l'uomo continuava a sparare mirando proprio sotto la macchina per riuscire a colpire stefania e sua figlia stefania nonostante tutta questa situazione surreale riesce non so come a mantenere la calma e a tirar fuori il suo cellulare per chiamare la polizia ma racconta che al telefono la persona che aveva risposto aveva iniziato a chiederle cose come il numero di telefono il numero del codice fiscale al che stefania gli aveva risposto tipo amico forse non è chiaro qua c'è uno che sta sparando a caso sulla gente cioè magari il passaggio del codice fiscale lo balziamo e lo rimandiamo ad un altro momento nel frattempo purtroppo la strage continua si ferma un'altra macchina e la scena è sempre la stessa anche quest'uomo era uscito dalla vettura per aiutare ma l'uomo sul tetto prontamente gli aveva sparato colpendolo al fegato facendogli perdere in pochissimo tempo una quantità enorme di sangue la moglie dell'uomo allora era riuscita a caricarlo in auto e a scappare si ferma un'altra auto con all'interno uno studente della facoltà di medicina e anche lui pensava che le persone sdraiate in mezzo alla strada fossero state investite e studiando medicina era convinto di poterle aiutare anche lui però era stato colpito all'istante crollando a terra davanti agli occhi di stefania dopo la chiamata di stefania e anche delle altre persone che nel frattempo avevano segnalato la cosa arrivano sul posto delle volanti della polizia e dei carabinieri che si trovano davanti una scena allucinante l'uomo sul tetto continuava a sparare e a urlare frasi sconnesse come per esempio mi avete eclissato ma vi dimostrerò che non sono finito urlava questo genere di cose mentre apriva il fuoco con qualsiasi cosa che si muovesse le autorità riescono a mettere in sicurezza la zona creando una specie di barricata con le loro macchine ma non riuscivano ad aiutare né a mettere in salvo le persone ferite che erano sempre lì sdraiate in mezzo alla strada perché come già detto appena qualcuno usciva o si sporgeva dall'auto l'uomo sul tetto era pronto a colpire con una mira da cecchino un ispettore del commissariato della polizia di tivoli luigi cifiello si trova lì sulla scena che si riparava dietro la sua volante e aveva iniziato a urlare all'uomo sul tetto cercando di comunicare con lui dicendogli di smetterla ma ovviamente l'uomo non gli aveva dato ascolto in quel momento però l'ispettore cifiello vede che dalla finestra della casa da cui l'uomo sparava c'erano due persone che guardavano da quella finestra vi ricordate quelle due figure che aveva già visto stefania quelle che le avevano chiuso la tapparella in faccia ecco l'ispettore si rivolge a loro chiedendogli di fare qualcosa di fermare questa persona sul tetto ma loro di nuovo di tutta risposta avevano tirato giù la tapparella ignorando le urla di aiuto dell'ispettore e di tutti gli altri a quel punto amici l'ambulanza era arrivata ma i paramedici ancora non riuscivano ad arrivare ai feriti era troppo pericoloso infatti ad un certo punto uno degli agenti che erano sulla scena l'ispettore superiore pasquale bufaletti si sporge dall'auto dietro alla quale si stava riparando e cerca di arrivare ai due corpi che erano in mezzo alla strada sdraiati per terra per almeno capire se fossero vivi oppure no ma quando l'ispettore bufaletti si sporge appena dalla portiera sente improvvisamente un bruciore molto forte alla schiena lì per lì non ci fa caso e non si accorge che anche lui era stato colpito se ne accorgerà dopo qualche tempo quando inizierà a sentire una sensazione di freddo alla schiena e a sentire il sangue che gli colava giù c'è stato il nostro arrivo ha comportato anche il mio ferimento una pagina di storia che spesso viene spesso viene rievocata spesso viene rievocata forse a volte fa anche bene invagare il passato guarda che comunque fa parte della nostra vita era spaventoso e complicato perché l'uomo dal tetto vedeva tutti aveva il totale controllo della situazione mentre invece le persone in strada non vedevano lui dopo un'ora di pura follia alcuni dei militari dell'arma riescono a comunicare con l'uomo che fino a quel momento come già detto non aveva fatto altro che urlare frasi sconnesse invece adesso aveva perlomeno iniziato ad ascoltare e a rispondere i militari allora ne avevano quasi approfittato per iniziare una trattativa dopo mezz'ora in questo modo riescono a convincerlo a far portare via le persone ferite e a farle soccorrere dai paramedici e appunto a farle portare via dall'ambulanza i feriti in tutto erano sette compreso l'ispettore bufaletti che racconta che sull'ambulanza insieme a lui c'erano anche pino insieme alla compagna stefania che urlava disperata preoccupata per la vita del suo compagno nonostante fosse ferita anche lei e amici lei stefania era stata colpita da sei proiettili stefania incredibilmente sopravviverà mentre invece pino purtroppo no era stato colpito alla testa e purtroppo era rimasto per terra senza ricevere cure per troppo tempo il che ovviamente era risultato fatale pino perderà la vita e rimarranno solo stefania e sua figlia margherita da sole le vittime di questa vicenda sono due oltre pino perderà la vita anche luigi zippo la guardia giurata che era stata colpita all'occhio lui era andato praticamente subito in coma e perderà la vita dopo alcuni giorni passati in ospedale sulla scena invece la negoziazione continua riescono a convincere l'uomo a farsi avvicinare lo convincono a farli salire fino in terrazzo dove si trovava lui così da dialogare da vicino faccia a faccia l'uomo dal tetto aveva risposto va bene salite pure ma fate attenzione alle scale e subito i militari erano due carabinieri e un poliziotto non capivano bene in che senso cioè in che senso state attenti alle scale cioè ci spari a vista e poi ci dici attenti ai gradini mind gap ma poi capiscono il perché la casa dell'uomo era piena zeppa di armi e di vere e proprie trappole mortali c'erano armi e munizioni per un esercito aveva fabbricato diversi lancia fiamme li aveva proprio fatti lui usando delle bombole e dei tubi e si era barricato sul terrazzo come se fosse in un fortino di guerra aveva messo per terra dei sacchi di sabbia dietro cui si proteggeva e si era costruito delle barriere d'acciaio mobili in modo da essere protetto da qualsiasi punto del terrazzo così anche se da sotto avessero provato a sparargli non l'avrebbero mai potuto prendere ma sulle scale amici le scale a cui i carabinieri e la polizia dovevano stare attenti sulle scale era pieno zeppo di trappole praticamente l'uomo aveva fissato dei tubi di metallo sul soffitto che aveva trasformato in dei veri e propri fucili erano 11 in tutto quindi c'erano questi 11 fucili che dal soffitto puntavano verso il basso e al grilletto aveva legato dei fili un filo per ogni fucile che facevano praticamente da sensore in modo che se qualcuno fosse salito su per le scale per andarlo a prendere i fili avrebbero innescato gli 11 fucili facendoli sparare tutti insieme uccidendo all'istante chiunque ci fosse lì sotto le autorità quindi scavalcano l'intrico di fili e riescono a raggiungere il lì trovano l'uomo e iniziano a parlargli raccontano che non sembrava né ubriaco né sotto l'effetto di sostanze era un uomo normale ma palesemente instabile quando gli avevano chiesto come mai stai facendo tutto ciò lui aveva risposto voi non potete capire e non potete neanche immaginare mentre discutevano a tratti il cecchino sembrava pentito diceva cose tipo mi dispiace so di avere combinato un disastro chissà che cosa mi succederà e ovviamente i negoziatori gli rispondevano cose tipo ma no ma stai tranquillo non è niente di grave perché non è morto nessuno mentendo ovviamente per tranquillizzarlo e alla fine in un momento di distrazione due carabinieri gli saltano addosso e lo immobilizzano riuscendo così amici finalmente a porre fine a quell'incubo l'uomo soprannominato da lì in avanti il cecchino di guidonia uscendo dalla casa e salendo sulla volante ha continuato a sorridere per tutto il tempo mentre invece dentro la volante sulla strada fino in caserma ha urlato per tutto il tragitto urlava che si sarebbe vendicato ma chi era questo cecchino di guidonia e perché ha fatto tutto ciò dunque il suo nome è angelo spagnoli nel 2007 quando è accaduta tutta questa cosa aveva 52 anni ed era divorziato senza figli era laureato in ingegneria ed era un ex capitano dell'esercito nel 1991 era stato congedato dall'esercito per motivi psichici perché come scritto in un documento sanitario aveva crisi depressive e soffriva di personalità borderline e forse è stato proprio il congedo dall'esercito a fargli scattare qualche qualcosa nel cervello non si sa ma qualsiasi cosa sia successa dentro di lui da fuori nessuno è mai riuscito a vederla angelo spagnoli era un uomo come tanti la gente che lo conosceva lo descrive come un uomo normale un uomo riservato poco espansivo e taciturno ma che non aveva mai mostrato segni di squilibrio o non aveva mai avuto comportamenti violenti era una persona anche molto attiva molto attenta al suo aspetto esteriore si allenava moltissimo andava in palestra correva tutti i giorni ma invece quei segni di squilibrio che non mostrava in pubblico li mostrava dentro casa sua spagnoli viveva insieme a sua mamma e a sua sorella che erano amici proprio quelle due sagome che guardavano dalla finestra mentre spagnoli era sul terrazzo che colpiva una persona dopo l'altra vi ricordate quelle due persone che stavano alla finestra che tiravano giù la tapparella in faccia a chiunque tentasse di chiedergli aiuto erano la mamma e la sorella di angelo spagnoli comunque come dicevo lui in casa era molto paranoico trascorreva le giornate a pensare a ripensare a tutte le cose che gli erano andate storte nella vita e pensava che la colpa fosse sempre degli altri il mondo ce l'aveva con lui tutti ce l'avevano con lui se qualcuno lo salutava allora quella persona si stava prendendo gioco di lui se qualcuno gli sorrideva allora stava ridendo di lui persino sua moglie secondo lui l'aveva abbandonato faceva anche lei parte di tutte quelle persone che volevano il suo male questi pensieri dopo un po' si sono trasformati in veri e propri deliri persecutori incontrollabili spagnoli era convinto che da un momento all'altro la sua casa sarebbe stata assaltata da nemici potenti perché secondo lui amici era perseguitato dalla camorra che voleva uccidere lui sua mamma e sua sorella il problema è che nessuno si era accorto di tutto ciò neanche il medico che gli aveva rinnovato il portodarmi perché dovete sapere che in italia devi superare una sorta di esame di idoneità psicofisica giustamente aggiungerei per poter detenere un'arma e lui l'aveva passato senza problemi e la cosa inquietante amici però è che il portodarmi lo aveva preso solo tre mesi prima di quella strage e comunque era stato proprio quello il motivo per cui quel giorno il 3 novembre aveva iniziato ad aprire il fuoco contro tutti praticamente spagnoli quel giorno si trovava sul terrazzo che trafficava con il fuoco io non so se avesse già costruito quei lanciafiamme non so nel dettaglio che cosa stesse facendo fatto sta che il fuoco aveva attirato l'attenzione di diverse persone in strada chiaramente che si erano radunate sotto casa per guardare per capire che cosa stesse succedendo ma nella testa di spagnoli quelle persone facevano parte della camorra quelle persone erano lì per uccidere lui sua mamma e sua sorella le sue dichiarazioni dopo l'arresto sono state che qualcosa si era come rotto nella sua testa e in realtà non voleva fare male a nessuno ma racconta che i servizi segreti lo avevano già avevano già iniziato ad assediarlo dice però di non ricordare esattamente a chi aveva sparato cioè dice di aver sparato a delle ombre e dice di ricordare solamente che due di queste ombre gli avevano bussato alla porta e nonostante lui gli avesse detto di andare via loro non lo avevano fatto e per questo lui era tornato su e aveva iniziato a sparare e ovviamente si riferiva a pino e a stefania che gli avevano bussato alla porta insinuando insomma che fosse colpa loro di tutto quanto ma ovviamente sappiamo che non è così quest'uomo era letteralmente una bomba a orologeria pronto ad esplodere da un momento all'altro comunque angelo spagnoli viene interrogato dal gip e dal pm salvatore scalera nel carcere di rebibbia dove era stato messo in isolamento e pochi giorni dopo lo hanno trasferito in una struttura psichiatrica il gip ha disposto una perizia per accertare l'idoneità di spagnoli a partecipare al processo e per accertare la sua capacità di intendere di volere e a tre anni esatti da quel 3 novembre quindi a novembre del 2010 arriva la sentenza per il cecchino di guidonia angelo spagnoli viene assolto perché ritenuto infermo di mente riceve dieci anni da passare in un ospedale psichiatrico giudiziario mentre invece amici la mamma e la sorella che comunque vivevano insieme a lui e lo avevano visto preparare tutte quelle armi lo avevano visto trasformare la casa in un fortino e in una trappola mortale e anche perché a quanto pare per realizzare tutto quel fortino per costruire tutte le trappole ci aveva messo più di un anno e nonostante questo loro la mamma e la sorella non avevano mai pensato di denunciarlo alle autorità ecco loro per questo motivo erano state accusate di omicidio colposo lesioni colpose e concorso in strage e anche di detenzione illegale di armi ma il 26 marzo del 2014 sono state assolte perché il fatto non sussiste voglio leggervi alcune delle parole di nadia zippo che sarebbe la figlia di luigi zippo la guardia giurata che aveva perso la vita proprio per mano di spagnoli è stato veramente difficile ascoltare le parole del pm il dottor guerra il quale ha iniziato con una lunga premessa sui fatti accaduti ma non ha detto nulla riguardo le dinamiche nulla sugli ordigni lungo il vano scale del condominio o sul contesto in cui vivevano le donne nulla riguardo il fatto che loro stesse subito dopo l'arresto di spagnoli hanno aperto con le chiavi in loro possesso le porte del garage dove era presente tutto l'arsenale o riguardo il possesso delle chiavi che aprivano la botola di accesso alla terrazza dove il fratello ha fabbricato il suo fortino e invece cosa sostiene il pm che le donne non erano tenute a segnalare nulla né alle forze dell'ordine né alle strutture sanitarie perché spagnoli angelo e maggiorenne e non potendo le due donne fare da garanti e non figurando come tutori chiede la soluzione di entrambe voglio urlare la nostra disperazione sperare che questo brutto sogno finisca con una giusta sentenza voglio sperare che il senso civico l'educazione il rispetto per il prossimo abbiano un valore ma cosa insegneremo ai nostri figli come potremmo proteggerli io amici sono rimasta un po interdetta da questa cosa cioè cosa significa che non erano tenute a chiamare le autorità cioè cosa vuol dire scusate ma se io vedo qualcuno per strada che spara a qualcuno allora cosa dovrei fare tirare dritto tornarmene a casa perché quella persona è maggiorenne io non sono il suo tutore cioè amici vi prego io non sono un avvocato non ho le competenze per capire tutto ciò quindi chiedo a voi perché sicuramente c'è qualche avvocato tra voi e se c'è per favore che scriva un commento bello lungo e dettagliato spiegando a noi comuni mortali il senso di tutto questo per favore questo è un'ennesima ingiustizia commessa da quella che viene chiamata giustizia e non è finita a quanto pare a nessuna delle vittime è stato riconosciuto un indennizzo alcuni di loro hanno dovuto subire degli interventi importanti e costosi alcuni hanno avuto ripercussioni sulla salute per tutta la loro vita a causa delle ferite ricevute ma non hanno ricevuto nessun supporto nessun risarcimento come se non fosse successo mai nulla ad oggi amici angelo spagnoli è libero in realtà non so se sia ancora vivo dovrebbe avere intorno ai 75 anni ma non ho trovato notizie recenti si sa però che è spesso uscito dal centro psichiatrico in cui doveva rimanere per 10 anni ed è spesso tornato a casa è tornato a guidonia e la gente del posto è rimasta sconcertata di vederlo presentarsi all'asl proprio lì di fronte dove era successo tutto i magistrati in base alle perizie comunque hanno determinato che non c'è pericolosità sociale e quindi per questo gli hanno concesso diversi permessi nel tempo come per esempio uscire per natale o per pasqua fa un po impressione no fa un po storcere il naso questa frase non c'è pericolosità sociale riferito ad una persona che per due ore all'improvviso si è messo a sparare sulla gente farendo sette persone uccidendone due tra l'altro amici il motivo per cui di questo caso praticamente non si è parlato o comunque se ne è parlato davvero poco e sono davvero curiosa di leggere i vostri commenti ma scommetto che la maggior parte di voi non lo conosceva ecco c'è un motivo per questo il motivo è che il 3 novembre 2007 succedeva in italia un'altra cosa terribile che ha attirato praticamente tutta l'attenzione dei media una ragazza inglese di 22 anni è stata trovata morta nella casa in cui abitava a perugia in viale sant'antonio vicino all'università per stranieri la giovane era giunta a perugia ad agosto nell'ambito del programma di scambio universitari erasmus ed abitava assieme ad altre tre ragazze è stata trovata in camera nuda coperta da un piumone e con un profondo taglio alla gola ovvero raffaele sollecito e amanda nox chiamavano i carabinieri per denunciare qualcosa di strano in casa un'effrazione si pensava e poco dopo veniva trovato il corpo senza vita della giovane inglese meredith kercher sono certa che al contrario del cecchino di guidonia tutti voi conosciate il delitto di perugia purtroppo e in quel momento il delitto di perugia faceva più notizia del cecchino di guidonia e per questo motivo il caso non ha ricevuto l'attenzione che meritava e anche per questo oggi siamo qui a ricordare questa vicenda e a ricordare le vittime che non ci sono più ma non solo a ricordare anche quelle che ci sono ancora e che devono convivere con questo spaventoso trauma e soprattutto che non hanno mai ricevuto la giustizia che meritavano queste amici sono tutte le informazioni che ho sul caso di oggi fatemi sapere appunto se lo conoscevate già e come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao